Siamo con Palluzzi, dirigente del San Donato, anche a te chiedo la stessa cosa che ho chiesto a tutti gli altri dirigenti, ovvero che cosa spinge le varie società a sposare questo progetto, che ormai non è più ma è diventato una piacevolissima realtà, del Mediolanum Baby Cup. Ma prima di tutto penso che l'organizzazione è andare sul sicuro, andare a scatola chiusa a fare un torneo che ogni anno ci riserva sempre belle sorprese per i ragazzi, per noi dirigenti, è motivo di crescita sia per i ragazzi soprattutto, ma anche per noi dirigenti, allenatori, perché ti confronti con tutte le società del comprensorio e quindi non può fare solo che bene sia a noi che soprattutto ai ragazzi. Penso già questo, è un motivo valido perché ogni anno vedo società nuove, poi le riconferme di tutte le vecchie, quindi è sempre un piacere, tutti noi, sia noi dirigenti che i ragazzi, non vediamo l'ora di cominciare questa nuova avventura anche quest'anno.